Sono Sara, ho 17 anni e vivo a Salerno, qui a Giffoni per me è il mio secondo anno da giurata, però sono venuta anche tre anni fa come visitatrice ed è lì che mi sono innamorata di questo festival. Diciamo che la mia passione, a parte ovviamente il cinema che guardo da quando ero piccola, molti film, cartoni animati, ultimamente serie tv, è la musica. Oggi sono una persona a tratti insicura, quindi non completamente cosciente delle mie capacità e vorrei in futuro essere più consapevole sia di ciò che posso essere sia di quello che posso fare. Verso me stessa ho forse qualche pregiudizio in negativo, però nonostante questo cerco sempre di lottare per quello che voglio fare. Il mio obiettivo, diciamo, è quello di perseguire questa passione della musica. Ho scritto qualche canzone, però non nel vero senso della parola, perché io non ho mai studiato musica. Il testo parla di una persona che ha delle aspettative da ciò che la circonda, ma che non riesce ad identificarsi nella società. Cioè è una persona che pensa in modo differente e che per questo si sente diversa, ma non è detto che questa diversità sia da sottovalutare. Quindi è un invito a essere diversi. Il titolo è Right Side Brain perché dicono che la parte destra del cervello sia quella più adatta a ciò che riguarda l'arte.